Ciò che giunge dal Parco Nazionale della Maiella non è soltanto una buona notizia ma un punto di svolta storico per la tutela dell'orso. Una femmina di orso Bruno Marsicano con due piccoli dati nell'anno è stata avvistata nei giorni scorsi nel cuore dell'area protetta dal biologo del Parco Antonio Antonucci che dichiara di essersi subito attivato per raccogliere campioni di pelo da sottoporre ad analisi genetica per identificare la femmina e acquisire maggiori informazioni riguardo i suoi spostamenti e la sua storia. La frequentazione di esemplari di orso nel Parco Nazionale della Maiella è stata documentata in modo continuativo sin dall'anno di istituzione attraverso il ritrovamento di diversi segni di presenza e avvistamenti diretti anche di femmine con piccoli ma mai è stato possibile confermare il dato. Nel 2013 l'orsa Peppina ripetutamente avvistata nel Parco Maiella e nella riserva naturale regionale Monte Gensan-Alto Gizio insieme ad un maschio adulto nel periodo degli accoppiamenti aveva fatto besperare lasciando i biologi con il fiato sospeso per tutto l'inverno in attesa della buona notizia. Anche nel 2014 è stata vista più volte ma purtroppo sempre da sola nei giorni scorsi è arrivata questa sorprendente fondamentale notizia che dona una speranza per il futuro dell'orso. La presenza certa di una femmina con piccoli nel cuore del Parco Nazionale della Maiella lontano dai confini con il Parco d'Abruzzo sostiene il direttore del Parco Maiella, Ore Modinino è un segnale estremamente positivo e il risultato di un processo di espansione in atto da diversi anni. Le femmine infatti, al contrario dei maschi, sono meno propensi ad esplorare e abbandonare le aree di nascita per colonizzare nuovi territori e anche quando ciò accade è difficile che la femmina decida di utilizzare il nuovo territorio per riprodursi immediatamente dopo il suo arrivo.